Ospite d'onore al galà di fine anno del Festival della Meloria, l'auditorium Petruzzi di Pescara, il sindaco di Montesilvano, nonché presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis, che ha dedicato ai presenti, al pubblico da casa, il brano dedicato alla sua città. L'amore per la musica me l'ha infusa il mio papà, che oggi non c'è più e che ogni volta che appunto mi approccio ad ascoltare musica, mi ritorna in mente quando da giovane lui lavorava con la EMI e quindi tornava a casa e spesso ci faceva sentire dischi, ci faceva sentire musica. E quindi solo per questo capisci quanto importante per me sia la musica, ma la musica poi negli anni è stata una mia grande passione, che ho continuato a coltivare e continuo a coltivare anche adesso e ogni qualvolta mi si chiede appunto di cantare, io non mi tiro indietro. Per la cronaca ha vinto la giovanissima Sofia Bevilacqua con un brano dei Beatles dal titolo Golden Slumbers, ma è stato il brano più orecchiabile, più richiesto, più acclamato anche da Ottavio De Martinis? Devo dire che la ragazza, peraltro giovanissima, è davvero brava e soprattutto ha superato all'inizio una difficoltà legata al fatto che il microfono a un certo punto ha smesso di funzionare e lei con grande professionalità, nonostante la giovane età, ha continuato a cantare e questo dice Luca su quanto sia non solo brava, ma sia anche matura. Probabilmente questo e anche la sua bellissima voce rappresentano qualcosa che potrebbe per il futuro regalarle veramente tanti traguardi musicali. Non solo lei però e non solo la canzone che ha vinto sono stati ben accettati, ma tutti gli artisti in gara sono risultati essere molto molto bravi.